Super Borghetto colpisce ancora. La mascotte del festival, un grande spettacolo c'è che si tiene ogni estate a Monte Cosa Roscalo, ha dato un appuntamento primaverile ai bambini. Il piazzale della Santissima Annunziata è stato il teatro della caccia alle uova di Super Borghetto. Neanche la pioggia ha potuto fermare l'entusiasmo delle famiglie che hanno aderito, ma soprattutto non ha scoraggiato i giovani dello staff, le stelle del borgo. La festa è stata studiata a puntino. I ragazzi, oltre ad organizzare la caccia, hanno ideato giochi per unire piccoli e grandi. Super Borghetto e il suo team hanno riconfermato così l'interesse collettivo e hanno creato un'occasione unica per divertire i bambini dopo due anni di pandemia e di grandi sacrifici. È stato un pomeriggio di divertimento ed emozioni, quello passato a Monte Cosa Roscalo, dove figli e genitori hanno ritrovato lo spirito di giocare in famiglia. Il prossimo appuntamento con lo specialissimo festival è il 5, 6, 7 agosto. Di nuovo, grandi emozioni e tanto, tanto divertimento.